Buona domenica a tutti ragazze e ragazze, vi ritornate in questo nuovo video. Valentin, come sappiamo, è stato cacciato proprio da Maria De Filippi nel serale di venerdì, dopo un'accesa discussione sostenuta proprio dal ballerino di latino americano. La lite, forse, sarebbe stata scaturata da una polemica e da una possibile crisi tra la ballerina di amici Francesca Tocca e suo marito Raimondo Todoro. E sempre per colpa di Valentin. La Tocca e il marito, ricordo ragazzi per chi non lo sa, stanno insieme da 12 anni. Lui è un ex ballerino di Ballando con le stelle e insieme hanno una bambina. Pare però, grazie alle indiscrezioni del settimanale chi che la coppia sarebbe stata in crisi a causa proprio di Valentin. Infatti, spesse volte, la moglie e il ballerino di latino americano hanno ballato insieme e anche con un certo feeling. Fatto sta che anche il marito della Tocca, proprio subito dopo pochi minuti dall'eliminazione o dalla dalla discussione dove Valentin ha abbandonato lo studio, scrive questo post. La diretta non è per tutti. Cosa avrà voluto dire? Mentre Maria durante la lite ha lasciato anche intendere che Valentin avrebbe un brutto rapporto con la Titova, sua insegnante di latino americano, la stessa poi anche dopo pochi minuti dall'eliminazione di Valentin, posta un post su Instagram dove ha mostrato la sua performance del Titanic dove ballava appunto con Valentin. Oltre a questo, da parte della Titova ma anche da Francesca Tocca non ci sono alcuni post riguardante proprio Valentin. Che la bomba scoprirà nella prossima settimana? Lo scopriremo presto. Iscriviti al canale se ancora non l'avete fatto e lasciatemi un like di supporto e ricordatevi ragazzi tutto andrà bene. Un bacio e una buona domenica da Angela da Tutto dal Web.